siamo live 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 allora ci siamo è partita benvenuti benvenute nella nostra piccola puntata di incontrando la luce ciao melissa come stai ciao joseph ciao tutti dolci anime io sto bene tu come stai bene bene e voglio anche stare bene direi quasi lo merito siamo in tema oggi parleremo di questo no prima mi accennavi è importante concentrarsi non tanto su quello che vuoi ma di più su quello che meriti in effetti nel nostro quotidiano noi questo errore questa confusione la facciamo abbiamo un po di nebbia nella mente pensiamo più a quello che vogliamo rispetto a quello che meritiamo rischiamo di perderlo di vista quindi direi che è una pillolina calda questa sì molto 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 perché molte volte ci concentriamo su quello che vogliamo e il fatto di concentrarci su quello che vogliamo si va ad offuscare altre cose altre situazioni e ci porta quindi ad accettarle perché diciamo beh ma io voglio questo quindi si scende a compromessi si dice va bene ci si accontenta invece sto notando che lasciare andare quello che vogliamo e concentrarci su quello che meritiamo permette a molte più cose di fluire nella nostra vita e ad alzare le nostre frequenze la nostra autostima perché non si tratta di sentirsi superiore agli altri perché non è questo chiaramente è importante entrare nell'energia dell'amore non quella dell'ego quindi quando diciamo io so quello che merito o mi permetto di ricevere il meglio non lo si fa per essere superiori semplicemente perché si è capito qual è il nostro valore e non è più quello che voglio non è voglio stare con una persona e quindi mi accontento in qualunque modo questa persona mi tratta perché voglio stare con questa persona quindi scendo compromessi no merito di stare con una persona che sa chiamarmi esattamente come faccio io bene allora direi che già la premessa vale come l'intera puntata quindi lanciamo la sigla la nostra aspettatissima sigla dopodiché riprendiamo proprio da da questo punto qui ecco magari nella relazione quello che merito o quello che voglio ne parliamo tra dieci secondi oh eri eccoci quasi non mancati per pochissimo concentrati su quello che meriti facciamo due tre esempi ad esempio nella relazione come dicevi prima esatto magari a volte capita che vogliamo stare con una persona che sia una relazione d'amore piuttosto che anche di amicizia perché comunque può capitare anche questo che vogliamo bene a qualcuno ma no non perché sia sbagliato voler bene a qualcuno o amare qualcuno il punto che molte volte entrano questi meccanismi di attaccamento di magari paura di stare da soli di essere abbandonati ok quindi ci sono delle relazioni che ci portano a vivere quelle che sono le nostre ferite interiori e quindi ci portano ad accontentarci o comunque a fissarci con una determinata ehm situazione persona proprio perché ehm andiamo a focalizzarci su quello che vogliamo lasciando un po' da parte quello che invece è il nostro valore e ehm non perché sia sempre sbagliato focalizzarci su quello che vogliamo perché chiaramente anche quella è una cosa importante è importante che quello che vogliamo ci dia il giusto valore quello di cui vogliamo parlare in questo video quindi non è il fatto di che è sbagliato volere tutto però prima ti concentri su quello che meriti e da quello che meriti vai a formulare quello che vuoi questo ha anche a che vedere appunto con ehm non nutrire l'ego esatto perché altrimenti andiamo ad accontentarci a cercare compromessi a stare sempre nei soliti cicli nel comodo invece molte volte concentrarci su quello che meritiamo ci porta a dire no ok qui adesso basta metto un punto questa situazione non fa più per me perché io merito un lavoro migliore una casa migliore un guadagno migliore un compagno migliore un corpo migliore e quindi tutto questo ci permette di uscire dalla nostra zona di comfort e andare a ricercare quello che è meglio quello che è meglio per noi quello che veramente meritiamo e questo soprattutto ci ci aiuta ad alzare la nostra autostima la fiducia in noi stessi il nostro valore quindi ha un impatto veramente grande sulla nostra vita quando solitamente se si pensa ma quello che voglio è anche quello che merito in realtà non è sempre così perché spesso vogliamo un qualcosa delle cose o nella relazione nel nel lavoro nella vita di tutti i giorni che non sono propriamente per noi tra virgolette la famosa parola fissazione vedo nell'obiettivo nel raggiungimento di quella cosa una determinata soddisfazione un determinato a pagamento ma quello non mi determina come essere o come persona e quindi c'è un dispendio di energie per questo c'è questa differenza tra quello che voglio e quello che merito ogni volta che dobbiamo affrontare qualcosa nella vita dovremmo farci questa domanda in ogni situazione dalla casa famiglia alle situazioni di lavoro è quello che voglio è quello che merito perché lo sto facendo perché lo merito o perché lo voglio e poi alla fine magari si scopre che se ti accorgi che lo meriti lo vuoi ancora di più lo insegui in un modo migliore lo insegui con altri mezzi non solo con la mente probabilmente esatto c'è l'importante che le cose siano tipo a incastro che proprio vanno cioè vanno insieme però appunto io personalmente ho notato che a volte mi sono concentrata su quello che volevo e quindi mi sono anche accontentata e quindi mi sono anche incastrata in situazioni in cui ci stavo stretta però perché lo volevo e per l'amor del cielo può essere utile per noi anche vivere quelle situazioni per capire che cosa non vogliamo più sì a un certo punto infatti questo messaggio questo video è proprio per trasmettere questo messaggio quelle persone che si sono incastrate in quelle situazioni in cui rincorri un qualcosa che vuoi e sei insoddisfatto perché perché ti stai dimenticando di quello che meriti puoi anche fare il lavoro che vuoi in ogni caso concentrati su quello che meriti perché io amo tantissimo quello che faccio ok e tu joseph lo sai così come tu ami quello che faccio chiaramente la cosa importante dire ok amo quello che faccio è quello che voglio fare merito di avere il meglio da questo lavoro e quindi mi concentro più su quello che merito assolutamente che poi diventa realmente quello che vuoi quindi quello che voglio esatto sì è un modo di fare pulizia nella mente dentro cioè scegliere i rami giusti dove aggrapparsi questo questo sai di solito per esperienze in base alle telefonate le consulenze che faccio è un qualcosa che poi arriva automaticamente e non so se tu sai qualcosa in merito magari apriamo questa breve finestra arriva automaticamente a un in un determinato momento della vita una determinata età per esempio nelle donne ho notato 33 55 e 65 c'è uno stop come per dire a non era quello che meritavo e quindi uno stravolgimento totale nell'energia femminile per interrompere delle cose e farne delle altre nell'uomo sembra un po più dormiente questa cosa forse si siede un po di più si accomoda un po di più però mediamente anche anche lì arriva una riflessione forse per l'uomo un po più prima vicino ai 40 tra i 40 e i 50 interrogativi interrogativi perché questa cosa è una cosa da cui non possiamo scappare e come mai arriva un determinato momento e mi rendo conto che tutto quello che ho voluto fare dire avere ricevere insomma dare e non era quello che meritavo accade questa cosa l'hai notata pure tu c'è un momento qui clic devi cambiare devi cambiare per forza sì sì io credo che arriva un momento in cui l'anima ti scuote ti dice adesso ti svegli e io credo che arriva per tutti arriva per ognuno di noi quel momento in cui dice in cui ti dici sì però questo non è più quello che merito c'è arriva per tutti quel momento ed è un bene che arriva qualsiasi età arriva perché poi ognuno di noi ha il suo percorso c'è chi può averlo a 20 anni chi ha 30 chi ha 60 chi ha 80 chi ha l'ultimo giorno della sua vita arriva per tutti arriva nel momento in cui è più giusto che accada nel momento in cui è più giusto che arriva quindi ognuno ha il suo percorso chiaramente accorgerci che che meritiamo di più ci permette sicuramente di riprendere in mano la nostra vita e dire ok adesso comando io quindi proprio riprendere in mano il timone della propria vita e dire adesso in questo mare di emozioni do io la giusta direzione seguendo chiaramente quello che ho dentro quando noi ci focalizziamo su quello che meritiamo per sapere che meritiamo il meglio stiamo seguendo la nostra anima selvaggia guarda potremmo eventualmente suggerire un c'è un consiglio un piccolo esercizio come per esempio io mi aiuto con la visualizzazione nella nella scrittura si potrebbe creare uno specchietto delle cose che si stanno facendo per porsi la domanda è quello che voglio o è quello che merito è fermarsi a riflettere in merito a ogni cosa che accade quindi la frase l'accadimento è accanto fare due piccole caselline è quello che voglio è quello che merito quello che voglio c'è la mente raggiungimento dell'obiettivo è quello che merito è realmente merito questa cosa serve anche per imparare a destinare le energie potremmo fare questo piccolo quadernino anzi vi invitiamo a farlo fate questo piccolo che è proprio il quadernino del lo merito si potrebbe chiamare così con il vostro nome ogni volta che dovete prendere una decisione o cercare di capire se quella cosa che state facendo vi sta prendendo troppa energia o è giusto che destinate molta energia perché lo meritate scrivete la frase l'accadimento la situazione e poi fate questi due piccoli quadrettini da spuntare è solo perché lo voglio o è perché lo merito e rifletteteci sopra sicuramente qualcosa dentro di voi si muove magari vi accorgete che state mettendo molto impegno lo volete non è quello che meritate sì propongo anch'io questo esercizio della scrittura perché anch'io di solito quando c'è qualcosa così scrivo quindi appunto c'è questa situazione chiedersi ma io merito di vivere di stare in questa situazione oppure merito di più cioè quindi proprio un lavoro interiore da fare anche tutti i giorni e poi dircelo anche io merito il meglio quindi andare a riconoscere quello che siamo ricordarci quello che noi meritiamo veramente perché comunque siamo siamo figli dell'amore della natura perciò cioè meritiamo ogni miracolo possibile ah beh sì assolutamente allora prima di salutarci che gli abbiamo dato il consiglio è tutto abbiamo soprattutto specificato questo lo voglio lo merito nella coppia lo voglio lo merito nella vita perché per quanto può sembrar banale concentrati su quello che meriti in realtà nella materia a causa delle tutte le sovrastrutture quotidiane che noi viviamo lo diciamo spesso perdiamo questo tipo di attenzione e confondiamo le cose cioè arriviamo a credere che quello che vogliamo è quello che meritiamo per poi arrivare in un determinato punto della nostra vita e dirci sì l'abbiamo fatto lo vogliamo fare però non era quello che in realtà meritavo quindi per non metterlo in discussione dopo perché tanto accadrà vale la pena fare questa riflessione prima cioè si può fare siamo artefici della nostra vita siamo responsabili cioè c'è un libro arbitrio possiamo fare delle scelte e capire che non vuol dire dovete abbandonare tutto quello che volete fare vuol dire capire quanta energia mettere se quello che volete fare quello che voglio o quello che meritate se poi trovate la cosa che è uguale ma solitamente succede che quando arriva a capire che quello che merito e quello che voglio veramente allora è meglio sì e sicuramente fidarsi dell'universo perché l'universo non sbaglia mai se vuoi qualcosa e l'universo lo toglie dal tuo percorso è perché ha per te qualcos'altro e perché quella persona quella situazione quel lavoro qualsiasi cosa non è per te e non significa che magari non lo sia per non lo sia per sempre non lo è adesso assolutamente quindi lasciare andare a fidarsi e concentrarsi su quello che meriti perché questo alza le tue vibrazioni la tua gratitudine migliora la tua vita la tua autostima la fiducia in te stesso perciò noi meritiamo solo il meglio assolutamente un un messaggio per la settimana già in anticipo per chi ci ascolta perché ok allora chiediamo quindi ai maestri che cosa che cosa vogliono consigliarci per questi per questi giorni ok mi arriva molto il radicamento consiglio molto per le persone che guarderanno questo video il radicamento perché ci sono delle energie che stanno cambiando che stanno portando molti scossoni e quindi stanno rimuovendo cose perciò è importante il radicamento quindi stare nella natura fare meditazione stare nel corpo stare centrati nel momento presente quindi giorno per giorno stare nel nel presente sentirsi proprio nel corpo nel radicamento senza lasciarsi trasportare troppo via dai mille pensieri stare qui e sì assolutamente eh ricordarci che siamo guidati e supportati bene allora direi stiamo qui e anche se la puntata è finita voi state lì stiamo qui ok un caro saluto melissa l'augurio per tutti quanti i nostri amici che ci sta ascoltando e vi auguriamo di vedere ciò che meritate e di afferrarlo esatto con la luce nel cuore un abbraccio buon tutto